Qua ci sono i giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio in allenamento, a fine gara prima della doccia saranno consegnati a ciascun ragazzo una confezione di bocconotti offerti dallo sponsor Bottega del Bocconotto di Castelfrentano, via Frentana, il nostro amico sponsor Pierino Bucci, qua si stanno allenando i nostri giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio. Partitella fra di loro, anche da questo lato invece esercizi ginnici per i ragazzi allievi di mister Gabriele Di Felice, qua abbiamo il nostro Daniel, il nostro portiere Daniel dei Giovanissimi, portiere titolare, da quest'altro lato abbiamo Matteo, portiere titolare degli allievi e in porta c'è Perrucci, il portiere in seconda, c'era anche il portiere Cocco ma non sappiamo che fine ha fatto, qua i nostri ragazzi stanno effettuando degli esercizi ginnici disposti da mister Gabriele, esercizi ginnici, qua abbiamo Michele, Pitbull, Caran, Riccardo, Bartolo e Alessio, Andrea, Antonio, Renzetto, Teidi, Lele, Cristian, Amedeo, Penultimo e c'è il nostro Alessandro Marcello, tutto in divisa nuova, in divisa nuova, cappellino nuovo, cappellino nuovo, mocio con le guanti, 24? No, 21? No, 21, 44 gatti, 44 gatti, c'è il 7, il 10, il 5, il 4, sembrate i carcerati che hanno il numero di matricola, è vero, 21 sono gli anni di... Ecco Daniel, si attende, il 10 in più, 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 vai, senza toccare, vai, veloce, rapido, bacino basso, bacino basso, così, rapido, rapido, su, rapido, si, si, bacino basso, Bartolo, a passa, a passa, a passa, Alessio, si, dai Alessio, rapidi, Andrea, Antonio, Teidi, su, così, rapidi, Cristian, buona, dai, Renzetto, su, su, buona, Lele, su, Amedeo, veloce, Alessandro, che si è fatto Cristian, a posto? Tutto ok? Ecco, ripartono sempre con gli esercizi disposti da mister, da mister Gabriele di Felice, il primo che parte con l'esercizio è Michele Daniello, il nostro numero 10 in più. Secondo è Pitbull, con il bergi Lorenzo, terzo Karan, quarto Guido Colaisi, quinto Riccardo Delbello, sesto Bartolo, Alessio, Andrea, Antonio, Teidi, Cristian, Lenzetto, Lele, Amedeo, in ultimo Alessandro Marcello. Sì, sì, bravi, 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 cazzo, bravi, rapidi, dieci, io, no, no, ce va dieci, no, quale dieci? Cosa siamo? Già sei tardi, altri due, ne erano otto, non ne erano, ma dove aveva otto, eh? Sono contato otti. Siamo dieci. No, siete, abbiamo fatto. Allora tre. All'altro? Sì. Mi fa bene? Siamo, movimento. Via, su, su, via, su, rapido. Su, buona. Su, via. Su, hop, su, saltami, saltami. Tu, vai, entrare. Vai, entrare. Tu, vai, parto. Oh, oh. Tu, oh, via. Tu, vai, entrare. Buona, tu, vai, veloce. Oh, che bene, Renzetti. Ecco, Renzetto, Renzetto con Teidi, Mata. Oh. Amedeo, Alessandro e Cristian. LL dove la messa. Andiamo in campo. C'è anche Mr. Francesco. C'è anche Mr. Francesco. Ragazzi. Ecco, Johnny Perrucci, reduce da una settimana di malattia. Oh, vedi? Eh, c'è anche un'altra scala. Non. Mo' si rubà qua? Eh, senza rubare che sono contati, eh. Senza fuori. Dopo rimane sempre i vostri compagni. Eh. Senza... Com' è un sacco. Su, u situ. Go! Sebbene. Spera!